ciao ragazzi non so cosa sto riprendendo perché una telecamera un po strana dovrei riuscire a centrare l'immagine comunque questo sarà un video molto molto importante si chiama si intitola picco per la perla e il potere vedete cosa fanno con queste davanti vediamo se volete farvi seguire la chicco e perla queste sono questa è la tecnica giusta no questa è mia è mia questa è mio questo di chi sono queste non fanno così per niente solo per me non sono per voi e roba mia no il potere delle memems aiuto lei non corre mai quassù da sola perciò davvero sono potenti allora ci mangiamo un po adesso scherzi a parte mi approfitto per dirvi che sono arrivate sono arrivati set per festa della mamma di broche non comprendono le però se li volete fatemelo sapere perché vanno a ruba ok poi farò un altro video dove vi mostrerò quali sono che prodotti ci sono e così magari scegliete vedete se vi piacciono oppure ok e chi chiama allora e mi mamma di chiama non vanno bene bene ciao Ciao!